70 anni di ABVS, Associazione Bellunese Volontari del Sangue, una realtà assorta nel primo dopoguerra che ha fatto sì che nelle terre alte non ci sia mai stata l'Avis. 70 anni che verranno raccontati in un volume celebrativo, i cui dati sono stati esposti all'Assemblea dei Volontari e che fanno emergere un elemento certamente positivo. Per quanto riguarda l'Associazione Bellunese Volontari del Sangue, sempre di più abbiamo fatto un lavoro di promozione particolarmente interessante nel corso dell'estate e stiamo avendo dei risultati molto importanti. Abbiamo avuto un incremento del 13% per quanto riguarda l'attività proprio dei nostri donatori. Purtroppo il problema è il ricambio generazionale, sia per quanto riguarda i donatori, sia per quanto riguarda i volontari che all'interno dell'Associazione lavorano. Donare il sangue per amore verso gli altri o per gratificazione personale? Lo abbiamo chiesto al sociologo ospite dell'Assemblea. La donazione del sangue è un dono improprio perché il donatore non conosce colui che lo riceve, quindi non c'è l'aspetto della reciprocità e del vincolo. Quindi dal punto di vista diciamo così antropologico è un vero e proprio dono, senza tornaconto. Ma è evidente che fare qualcosa di buono per la comunità che ci ospita è un elemento diciamo così che migliora la stima di se stessi e quindi la rimunerazione per i donatori è sentirsi capaci di fare qualcosa di utile per il resto della comunità.